Il 2021 è stato l'anno della ripresa per l'economia varesina, con livelli superiori anche rispetto al pre-covid. È il dato principale che emerge dal General Report 2022 promosso dagli enti bilaterali. I settori più attivi sono servizi e turismo, mentre il commercio fatica ancora. La maggior parte delle nuove posizioni lavorative riguarda le principali città della provincia, Varese, Bussarsizio e Gallarate. A presentare i risultati il professor Minello, responsabile del centro studi Spazio Indagine Varese. Il dato principale è che il settore del terziario non solo resiste ma rilancia le proprie posizioni. Nel 2021 l'abbiamo chiuso con quasi mille unità locali in più e a cui corrispondono quasi 9.000 posti di lavoro in più. Quindi noi oggi abbiamo più attività e più occupazione di quello che avevamo anche in epoca pre-pandemica. Ma non sono solo luci. Tra le ombre è la prevalenza di forme di lavoro di tipo precario e il calo delle figure specializzate. Un'analisi da cui gli imprenditori possono trarre spunti importanti sulle trasformazioni in corso nel mondo aziendale, a partire dalle nuove esigenze dei lavoratori. L'obiettivo per il futuro è dare più spazio alla professionalizzazione e alla qualità del lavoro all'interno dell'impresa. Un lavoro che deve conciliare i momenti di vita sociale, deve conciliare la digitalizzazione, deve conciliare la crescita personale, l'uso delle lingue, perché oggi i giovani non badano solo più al contratto, al salario o allo stipendio che dir si voglia, ma anche alla propria qualità della vita e del proprio tempo.